FILE ROOS TV, LA TUA WEB TV Sabato abbiamo ascoltato le proposte della FIGC che per bocca del Presidente del Comitato Regionale per la Sicilia, Ingegnere Sentinolo Presti, del Delegato per il Calcio 5, Maximiliano Birkler ha messo sul tappeto gli intendimenti della Federcalcio nel tentativo di salvare la stagione attuale e soprattutto di consentire l'avvio di quella successiva. Adesso sarà la volta dei club siciliani, dovranno spiegarci se reputano interessanti queste proposte, se hanno la possibilità di ricevere queste proposte e se credono che sia una strada percorribile in vista di un possibile ritorno all'attività agonistica, in vista soprattutto dell'avvio della importantissima stagione successiva. Ne parleremo stasera a partire dalle ore 19 su FILE ROOS TV nel corso della trasmissione Futsal Time con il Presidente delle Pantellerie Calcio 5 Claudio Illirico e con il portiere di lungo corso del Redentino Altofonte Salvo D'Asta. Non mancate pertanto l'appuntamento delle ore 19 su FILE ROOS TV. oggi sono andato in velo, è stato in velo. è piano e c'è andato abbastanzaрутica, mentre permettonoísimo che a volte torno a lavorare gli�� origini lalника abortione e gradibili nel corso della trasmissione Futsal Time. Grazie. Grazie. Grazie.